E' una cosa che viene da lontano, che viene dal concilio ecumenico Vaticano II e prima da Papa Giovanni XXIII, e anche da gesti che ci sono stati forse più isolati con un altro stile, un'altra mentalità, ma che con un uomo come Papa Giovanni, e io ho ricordato delle parole che lui vi ha detto quando ha ricevuto qualche personaggio, io sono Giuseppe, il vostro fratello, ma lui è stato in Oriente, è stato in Turchia, e quindi ha potuto portare questo movimento ecumenico che lui vedeva nella realtà, nel suo cuore, per tutta la Chiesa, e il concilio Vaticano II è stato proprio quel fiore di una nuova primavera, che è la primavera dell'unità della Chiesa.